Cerchiamo di aggiornare alla normativa e alle necessità... Presidente, allora un'operazione di trasparenza, la possiamo dire così, aprite uno degli impianti di depurazione più importanti della città? Sì, apriamo venerdì prossimo alle scolaresche, quindi poca la cittadinanza, il depuratore di Ponte Metauro. Questo è un momento però importante perché intanto avviene a 40 anni dalla costruzione del primo depuratore. Penso che di statistiche non ne ho guardate molte, però penso che sia uno tra i primi in Italia. Addirittura parliamo di questo genere di sensibilità che è nata 20 anni dopo, 30 anni dopo in altri comuni, molto più forniti di noi e molto più importanti. In più abbiamo anche un momento importante per noi come azienda che abbiamo il fatto che alcuni dipendenti storici vanno in pensione, quindi abbiamo cercato di coniugare questi due momenti facendo una specie di passaggio di consegno tra i giovani che già sostituiscono egregiamente le persone che vanno in pensione e questi personaggi che per noi sono non solo dei collaboratori ma dei veri e propri pezzi di memoria storica perché qui parliamo di impianti che sono stati effettivamente pioneristici, cioè costruivano delle cose di cui pochi sapevano come farle funzionare o meno, quindi anche dal punto di vista tecnico sarà interessante perché faremo una riunione tra coloro che sotto questo punto di vista hanno seguito la creazione del primo impianto e poi successivamente anche quelli degli step che l'hanno in qualche modo modificata ed integrata per renderci conto meglio e per far rendere conto meglio anche delle grandi innovazioni e dello spirito che avevano queste persone quando si sono inseriti in questo progetto che era probabilmente più grande di loro ed era un progetto sul quale era difficile anche confrontarsi perché non ce n'erano di analoghi in giro, quindi sarà interessante anche questo aspetto. Quando è stato inaugurato questo impianto, parliamo di 40 anni fa, faceva confluire gli scarichi praticamente della zona del centro di Fano più tutta la parte che è vicino a Madonna Ponte. Poi in seguito con vari step e con vari allargamenti anche della struttura stessa siamo arrivati a poter convogliare tutto ciò che riguarda la depurazione di 60.000 residenti, quindi è una media, parliamo del 99,9% delle acque depurate, quindi è una media che è invidiabile e non riscontrabile da altre parti.